Prima di suonare a scala di male, dobbiamo prepararsi fisicamente. Cosa intendo? L'importante è non spostare il dito medio, ma al tempo stesso suonare e allargare di un bottone. Questa è una distanza principale. Facciamo questo tipo di esercizio. Tengo la e il mi suonerà sia il mi sia il basso sopra, si. Facciamo la, mi, la, si, la, mi, la, si. In questo modo sono sicura che non spostate sul si e il dito medio, che deve rimanere sempre sul la. Idem con patate facciamo con dito quattro e ne suoniamo due note, sia il re sia il sol. Facciamo la, re, la, sol. Utile anche per fare il contrario, sol, la, re, la, tre, quattro, quattro, tre. Rimane zitto mignolo, è un po' più antipatico. La, do e la, fa. Non spostate il dito medio dal la. La, do, la, fa. Facciamo il contrario. Do, la, fa, la. E non dimenticate suonare e provare anche questo esercizio, anche in chiusura. Variante dell'esercizio ritmico provate a trovare nella mia sezione, nella questa playlist, dedicata ai due quarti. Questa è una fonte di ispirazione e anche per cominciare a improvvisare. Visitate il mio Patreon per scaricare le spartite e avere le altre lezioni utili. Grazie.